Il presidente del CONI Giovanni Malagò, il segretario generale Roberto Fabricini, insieme al capo missione a Bacu Carlo Mornati, hanno ospitato questa mattina il segretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti e l'ambasciatore italiano Giampaolo Cutillo. All'incontro era presente una delegazione della missione azzurra guidata dal vice capo missione Anna Riccardi. De Vincenti, che prima aveva assistito al vittorioso esordio della nazionale femminile di pallavolo contro il Belgio, ha portato il saluto del governo italiano alla squadra impegnata in questa prima edizione dei giochi europei di Bacu. De Vincenti ha apprezzato l'entusiasmo dell'Italia Team, augurando importanti successi e testimoniando la vicinanza di Palazzo Chigi alla spedizione italiana. È molto bello che siamo presenti con una squadra forte, numerosa, a questo appuntamento che testimonia un rapporto forte tra i paesi europei ed è bello che sia qui a Bacu, paese con il quale tra l'altro l'Italia ha dei rapporti molto positivi. Soprattutto ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, alla squadra italiana. A rizzaldare il legame tra il governo e lo sport italiano nel rispetto dell'autonomia, un messaggio anche da parte del presidente Malagò che ha accolto questa mattina il sottosegretario De Vincenti. Ringrazio il sottosegretario, ringrazio Claudio, perché a prescindere dai ruoli istituzionali ci lega un rapporto di lunga data. Sono felice della sua presenza, testimonianza di un legame tra un'istituzione politica, governativa e quella sportiva molto forte, peraltro che ha da sempre caratterizzato la storia del paese e la storia dello sport italiano. Credo anche che sia stato uno dei motivi dei successi fatti in questi cento anni che ci vedono sicuramente riconosciuti un prestigio nel nostro mondo che sicuramente magari in altri settori ha anche abbastanza di invidia. Una spedizione importante, poi ovviamente sappiamo benissimo che le competizioni sono altamente, altamente complicate, però alcune valgono per qualificazione olimpica e questo per noi c'è una lente di ingrandimento particolare. Il sottosegretario e l'ambasciatore si sono anche fermati alla mensa con gli azzurri, momento al quale hanno partecipato anche il membro CIO Mario Pescante e il presidente del CIP Luca Pancalli. L'ultima curiosità per chi ci segue dall'Italia, il suo sport preferito? Dunque a me piace molto andare in montagna e quindi faccio escursionismo, anche un po' di alpinismo, poi come sport che ho praticato e che seguo con grande passione il ciclismo, che pratico tuttora e seguo con grande passione lo sci e lo pratico meno, ma mi piace molto il calcio, però mi piacciono tutti gli sport e soprattutto una manifestazione come i giochi europei e come i giochi olimpici è l'occasione per conoscere, avvicinarsi, appassionarsi a tutti gli sport, sono tutti bellissimi. Ha sentito il presidente del Consiglio in queste ore dopo la cerimonia d'apertura di ieri sera e dopo la partita di questa mattina? Gli ho mandato un messaggio dicendogli come è stata bella la cerimonia di sera e adesso sto per mandargli un messaggio sulla partita.